Quando io ero piccolo, ero piccolo, capito? Non ero grande, cioè non potei, non puoi pretendere da uno piccolo di fare grande, certe robe un bambino non le capisce, ci dà in mano una zappa, si fa male, bisogna aspettare un po', lo so che lavorare è importante, ma adesso anche i Landini e il CGL ci devono dare una mano, perché qua c'è, bisogna aspettare fino a 16 anni per far lavorare i bambini, è troppo, noi abbiamo i campi, bisogna andare a lavorare, la scuola è un po' sopravvalutata, perché a scuola il bambino cosa fa? Tanto mi consuma, mi deve stare con la mascherina tutto il giorno, mi mangia dei panini col salame, viene a casa e è svogliato, poi la vita all'aria aperta, dice no, non sono più abituato e noi abbiamo dei costi di produzione, qua nel fare i figli così a caso, che non è più supportato da un reale introito, capito? Per cui il sindacato dovrebbe fare qualcosa per andare dentro alle scuole e con un cacciavite iniziare a smontare i comodini, quelli della sala professori, così i prof non sono più dove mettere i libri, il professore che insomma è un po' metodico, mi va in crisi, le scuole chiudono, noi abbiamo delle piantagioni qua di zucca e meloni da tirare avanti e della mano d'opera di diecenni ci fa comodo, è anche il sindacato, insomma, di una mano. Grazie a tutti.